Sono già 10.500 le richieste di integrazione agli indennizi presentate al Fondo Interbancario di tutela dei depositi dagli obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione, Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara. Al momento poco più di un terzo delle richieste totali sono quelle inviate dai risparmiatori dell'Istituto di Credito Aretino. Nel marzo 2018 si era conclusa la prima fase dei rimborsi con gli indennizi forfettari all'80% per i bondisti e azzerati. Erano state così liquidate 15.443 pratiche. Adesso questa seconda fase prevede un'integrazione del 15% per gli stessi eventi diritto per una somma totale di 181 milioni di euro. Sono previsti così indennizi automatici per chi ha un reddito imponibile inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000. Per chi invece non rientra in questi requisiti è stato ideato un processo di verifica semplificato da parte di una commissione istituita presso la CONZAP. Intanto il prossimo venerdì si tornerà in aula per il processo relativo al crack di Banca Etruria. Sarà ancora la volta dei testimoni della Procura. Saranno così ascoltati Daniela De Rosa, curatrice del fallimento Privilegi Art, il suo consulente Vincenzo Difani ed infine il maresciallo della Guardia di Finanza Lucci.